Un saluto dalla Lungheria e dalla Laury Promotion alla Rumble Boxing e un grosso in bocca al lupo al mio caro amico Leo Nalbundu e colgo l'occasione per fare gli amori di Buon Natale a tutti. Buon Natale e seguite la pagina di Facebook e seguite Leo Nalbundu. Forza Leo, in bocca al lupo.